E il medico della peste Che infetta le persone Però quelli sarebbero verdi Quindi no Non c'entra niente Ma quello non abbraccia però Chi è che abbraccia? Magari un altro Lo shagai abbraccia Lo shagai abbraccia di brus L'ho dato pure abbraccia Perché ti spesso Avrà trovato sicuramente qualcosa Oh no Oh no Aia Ha fatto male anche a me qua Mi dispiace Mi dispiace Non pensarti Allora domanda seria Prima qual te li rispettiamo No No non può No 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 Allora adesso Le spieghi Perché quello che ha detto Era sbagliato Perché io ci ho provato Dieci volte Non capisce Perché io Allora Non ci Fai quello che ti ho detto Senza Piatare Allora Giorgia Ti devi dire sempre qualcosa Che arricchisce la conversazione Capito? Sei benevola nella conversazione E non devi dire qualcosa Che finisce lì A cui non è possibile risponderti Perché Che risposta potresti dare Devo essere utile Ah è vero Cosa dici? Dico ah è vero Ok E vedi non dici nulla È vero Quindi devi dire Ah è vero Perché sei colto bene qualcosa Che hai metto in quel momento Capito? Ma lei potrebbe essere deficiente E non ha in mente nulla È vero Questo potrebbe assistere Alex Come risolvi tu Questi problematiche? In questo caso Si dice una frase Che possa far ridere Ma lei Non è molto Eh dai Io però Non so cosa devo consigliargli Allora Questa è una regola Che è stata spiegata Ad Alex poco tempo fa Devi concentrarti Su cosa stanno dicendo gli altri Gli altri Non su cosa potresti dire tu Così ripete Così ripete Copia così No perché così Capisci il discorso Che sta avvenendo in atto E quindi puoi creare Una cosa tua Allora Il tuo problema Sembrerebbe essere Che tu non capisci una mazza Di quello che dicono gli altri No Perché sono troppo concentrata Magari in quello che voglio dire io No perché ti escono Delle cagate in mani Quindi non penso Che sia questo il problema Eh quindi Cerca di capire Bene Quello che dicono Le persone Che hanno il cervello Ok E arricchire E arricchire ciò Ok Ho capito Facciamo una prova Cico ok Dimmi qualcosa Su questa Intelligente Questi qua Penso siano SCP Nuovi stranissimi Che nessuno ha mai visto Cosa ne pensi Ok Penso che Mi sembra strano Che la rapetrice Possa inserire ancora altri SCP A poi gli SCP Che non si sono mai visti È stranissimo E io qua potrei dire Che La rapetrice Potrebbe essere stata in grado Di crearne di nuovi No perché abbiamo appena detto Che non può essere Che ne ha creati nuovi No è proprio È deficiente questa Ma cosa È vero Mamma mia Fai proprio cagare Ma come è possibile Che ascoltare Mi bussi Che cosa sa Che 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 Grazie a tutti.